Ciao al mio canale, come stai oggi? Spero che tutto il bene venga da Teoroscopo Paolo Fos oggi 8 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fos che tutte le mattine su Radio La Teniele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 dicembre 2020 tutte da leggere, e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, non credete all'oroscopo ma verificate.esclamativo chiuse virgolette e punto aperte virgolette toro in pagella sentimento 10, sesso solo 6, un bel 10 in sentimento, ve lo meritate, con la complicità della luna di terra, rassicurante e premurosa, intrigono al vostro segno, in avenere, gelosa ma molto arapante. Purtroppo però di mezzo ci si mette Nettuno, che con un'opposizione, spegne i suoi entusiasmi, rendendola svagata e diffidente. Anche se vi state finalmente riposando, cercando di accantonare questo periodo così buio e non solo in senso meteorologico, il pensiero torna con insistenza alle fatiche, e alle pesantezze del momento, tra noia e malinconia, mentre ora con urano trasgressivo nel segno, vagheggiate la fuga da, sin sin, il carcere dove il covid è imprigionati. Come se non bastasse, agli effetti disastrosi della pandemia, su stile di vita, lavoro e finanze, si aggiungono anche le disarmonie di coppia, che esacerbate dall'attualità, ora balzano subito agli occhi. A mettervi la pulce nell'orecchio anche i discorsi degli amici, c'è chi magnifica la propria relazione, e chi critica la vostra, giudicando il partner banale e poco stimolante. Avranno ragione oppure no? Per lei? Contrariate dal comportamento dei vostri figli, che infilano bugie difensive per parare un castigo. Passi quando inventano per fantasia, ma così proprio non vi va giù. Per lui? Serata moscia, niente sbaghi ma forse è meglio così. Di tensione e stanchezza ne avete già accumulata abbastanza, ora volete solo rilassarvi. Vimbrule e ananna presto. Astro tarocco del giorno per toro cavaliere coppe rovesciato uomo astuto e imbonitore, probabilmente sposato o impegnato che tenterà, o sta tentando di ingannarvi, e di carpire la vostra buona fede.Il vostro partner potrebbe essere infedele e molto astuto nel nascondere qualche tradimento? Tradimento in vista 2. Una persona che conoscete, magari particolarmente bene, vi sta raccontando menzogne, è particolarmente bugiarda e sta tentando un inganno alle vostre spalle. Persone sgradite in arrivo, visite noiose e pericolose. Gli amori complicati andrebbero i vissuti sempre con tanta serenità e pace nel cuore 2. Non è agitandovi, che risolverete i vostri problemi, e non tutti dipendono da voi. Ottime notizie in arrivo 2. Qualche telefonata importante, e qualche sms molto, romantico. Abbiate cura dei vostri amici, e dei vostri parenti 2. È un periodo che li state trascurando troppo. Discussioni con amici e colleghi davvero non mancano in questa giornata 2. Alcuni conflitti di fondo virgola in realtà, non sono stati risolti in passato, e dunque si trascinano. Giornata in cui sono possibili grandi incontri sia per il lavoro sia che per l'amore 2. Solo quelli nati di venerdì tra le 9, e le 18 potrebbero avere delle difficoltà. La paura potrebbe frenarvi eccessivamente e provocare qualche disagio in chi vi sta intorno. Divrete prendere oggi una decisione semplice, ma che richiede un po' di coraggio. Se l'amore oggi non vi convincerà, è solo perché oggi sarete particolarmente esigenti e attenti anche ai peluzzi. Per questo punto esclamativo siate più elastici e liberate la mente da pensieri che vi mettono in ansia. Se i vostri impegni vi assorbono troppo, cercate di trovare spazio per riservare delle premure alla persona amata. Se la trascurate potreste avere un effetto poco piacevole sulla vostra intesa. Se vi sentite soli e incompresi, cercate di superare indenni questa giornata, poiché risulterà particolarmente mediocre e monotona. Dovrete sforzarvi di tirare fuori tutta la vostra fantasia per ottenere almeno un minimo di risultato. Previsione celeste di questa vigilia di festa mediamente positiva. Solo Venere nel dirimpettaio segno nemico amatissimo dello Scorpione, è l'astro che vi contrasta, e vi invita a non eccedere nelle prese di posizione in famiglia a volte troppo nette e radicali. Luna intrigono al vostro segno, e a Urano che lo abita, ma in buona armonia con Venere che invece vi dà contro. Nulla di drammatico, a difendervi ci sono gli amici Giove, Saturno e Plutone. Solo qualche discussione in più con il vostro entourage, nonostante l'affetto profondo, andare sempre d'accordo non è facile come sembra. Amore ed Eros. Giornata strana, se presentate ai vostri ragazzi la nuova fiamma fatelo con estremo garbo, basta una parola sbagliata a rovinare una magia perfetta. Per spicacia e delicatezza le parole chiave, valgono anche con i figli per disuaderli rispetto a compagnie che non vi convincono affatto. Delicatezza di tocco, è consigliata oggi per sintonizzarvi con la persona che avete accanto. Sono infatti nell'aria occasioni di nervosismo, che possono disturbare il rapporto, specie in mattinata. Seguendo le accoppiate dinamiche tra i segni che si intendono maggiormente, osserviamo oggi l'incontro tra il fuoco del leone, e la terra del toro, combinazione che dà scambi proficui tra calore e generosità leonini e il buonsenso e la concretezza taurini. Un'intesa passionale potente e di rara completezza unisce questa coppia, che appare veramente benedetta dal destino e dagli dei zodiacali. Lavoro e denaro. Irritabile chi è di turno sul lavoro, gratificazioni, invece, sul fronte degli affari, l'interlocutore è tutto orecchie, interessatissimo alle vostre spiegazioni, e alle vostre proposte. Prudenza con spese natalizie, euro su euro svuotate il salvadanaio. Chiudete in ufficio, con una certa fatica dato che impegni imprevisti vi obbligheranno a un lavoro supplementare. Questa eventualità più facile da verificarsi per voi se siete nati nel mese di maggio. I nati in aprile con l'apporto della luna oggi favorevole nel segno della vergine, e quindi di urano in congiunzione nel loro segno, vedono le loro quotazioni alzarsi al massimo. Benessere. Ormoni sotto tono, ecco perché la pelle non è luminosa come sempre e reclama un aiutino. Importante fare ginnastica, non impigritevi solo perché fuori c'è umido e fa freddo. Colore delle emozioni. Cannella. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.